Il programma è presentato da CPL Concordia è sempre accanto a te CPL Concordia Energia che migliora la vita Buonasera amici della Serie B Nuova puntata di Bizzona Come sempre con me in studio Brighenti, buonasera Non commenteremo solo la B Brighenti Perché dopo c'è un appello che deve fare Verso la fine Però noi sveliamo il quesito con cui siamo lasciati Settimana scorsa Perché lei realizzò un gol Di quella partita trasmessa in televisione La prima partita trasmessa dall'estero Dalla nazionale E lei giocò davanti a 150.000 spettatori di Wembley Contro la loro Inghilterra 1959 Gol di Brighenti L'Italia pareggiò Grande festa Due per la prima volta non l'abbiamo perso in Inghilterra Non l'abbiamo perso in Inghilterra E poi i connazionali italiani che lavoravano in Inghilterra a Londra Vi ringraziarono È stata una manifestazione di gioia incredibile a Londra E quindi insomma Una parte della storia calcistica dell'Italia Brighenti l'ha scritta anche e soprattutto in campo In quell'occasione è stata poi una storia anche di te Verso gli emigranti che c'erano a Londra È importante Le 59 erano tanti Adesso noi invece parliamo di Serie B Andiamo subito a leggere i risultati della giornata che si è conclusa nel weekend Il Latina stravince col Padova 3-0 Lanciano e Ivestabia 1-0 Spezia e Terlana 2-2 Il Palermo supera Fatica al Bari 2-1 Pareggio tra il derby Toscano tra Siena e Empoli 1-1 Vittoria del Carpi a Brescia 2-0 Pareggio tra Cittadella e Novara 2-2 La vittoria del Varese 4-3 a Reggio Calabria Perdeva 2-0 primo tempo Pareggio Cesena-Trapani 2-2 Il Modena supera il Crotone 2-0 E infine Avelino Pescara con l'avvento di Cosmi Panchina 1-1 Brighenti velocemente che voto diamo al Palermo Poi ascoltiamo l'intervista realizzata di Iachini In questo momento il Palermo ha un ottimo voto Di 8 perché Iachini è riuscito a mettere a posto la squadra Il problema era grosso perché tutti i nuovi giocatori Ha cambiato l'assetto della squadra E lui in questo momento è più tranquillo Palermo che quindi in classifica comanda Con 4 punti di vantaggio sull'Empoli Fermato nel derby Ascoltiamo le parole di Iachini Un grande secondo tempo La squadra è passata meritatamente il vantaggio Non concedendo nulla Purtroppo c'è stato questo Eurogoal Su una palla rilanciata Un rimbalzo E questo Eurogoal da parte di Galano Adesso è un momento che fra Spezia e oggi Abbiamo preso due gole all'incrocio dei pali Ma può capitare in un campionato Però la squadra ha avuto la forza Lo spirito, il piglio La mentalità di andare a ricercare comunque la vittoria E ci siamo riusciti Andando a insistere fino in fondo Per quella che poteva essere una partita E una vittoria importante Diciamo di un Palermo che ha fatto fatica Come ha visto invece il derby toscano Tra Siena e Empoli Un pareggio con polemiche Meritava il Siena Senz'altro il Siena meritava di vincere E ci sono stati alcuni errori arbitrali Che hanno favorito l'Empoli Quindi insomma alla fine però L'Empoli rimane a quattro punti di svantaggio Dal Palermo Però attenzione perché c'è questo Lanciano Che sta salendo Dopo la vittoria contro l'Ivo e Stabia Meno due dalla Siena Comunque io mi sono esposto Dicendo all'inizio del campionato Che senz'altro l'Empoli ce l'avrebbe fatta Posso sbagliare L'anno scorso poi l'Empoli ricordiamo Che perse la finale derby Un altro derby contro Livorno Quest'anno non può fallire Però sono convinto Che adesso con questa Ritornati in forma a Maccarone Ultimamente Big Mac Un attaccante Un attaccante che ha fatto bene anche in Inghilterra Andò a giocare Si ricorda nel Middlesbrough Certo L'abbiamo richiamato per far giocare anche in nazionale Non per mangiare Noti fast food Partiamo le interviste di Siena-Empoli Il pareggio del derby toscano Che rilancia un po' anche l'ambizione del Siena in classifica La squadra ha fatto veramente una grandissima partita Loro sono probabilmente la squadra che ha l'organico migliore a livello di Serie B Non dimentichiamo che ha due giocatori come Tavano e Maccarone Che hanno più di 300 gol Tra tutte le categorie Perché probabilmente a contarle di 6 o 7 squadre in Serie B Gli attaccanti non ce li hanno Quindi questo oltre alla qualità di altri giocatori E quindi averli messo alle corde così Averli veramente superati sotto l'aspetto del gioco È una grande soddisfazione L'ammarico è che Come dicevo prima Probabilmente meritavamo di più Eravamo riusciti a tenere in vantaggio Dopo lì credevano in una vittoria Anche perché Credo che la nostra difesa Ha tenuto molto bene gli attacchi del Siena E poi è normale Un pareggio Per come era messa la partita Giocando tutto un secondo tempo in 10 Ci può anche stare Brighenti La classifica che stavo adesso appunto guardando Nel momento delle interviste post partite È molto corta Ci sono tante squadre Racchiuse in pochi punti Può lottare ancora a Siena Ma ce ne sono altre che possono lottare per la zona playoff È un campionato molto difficile Anche perché quelli favorite Non hanno un assetto da poter dire Vincere ogni partita Vediamo delle sorprese Vediamo per esempio il Lanciano Vediamo dei risultati incredibili L'Avellino per esempio Speravo che puntasse direttamente Invece ha avuto un momento di sosta Adesso forse si è ripreso Però Tutto è possibile Anche il povero Cosiddetto Come classifica del Modena Speriamo sempre di riprenderci Tra l'altro un commento Invece Brighenti Sull'avvento e panchina di Cosmi Pareggio ad Avellino Poi ascoltiamo le parole del tecnico del Pescara Cosmi può risollevare Cosmi può risollevare Ha bisogno di un stimolo nuovo Perché Pescara come squadra c'è Non è una squadra Era in zona promozione Pescara Devono essere orgogliosi Del loro allenatore Dei loro giocatori Perché Non pensavo Lo dico sinceramente Tra l'altro L'ho detto anche prima Della partita a Rastelli Quindi Che veramente avessero Tante qualità Perché in un campo così difficile L'Avellino non è che ha proposto Solo forza e aggressività Perché è normale Insomma Voglio dire Però anche qualità tecnica Dei giocatori come Castaldo Vedete che In questa categoria Ma anche da un punto di vista Tecnico Anche delle interpretazioni Delle giocate Sono Sono veramente Degli ottimi giocatori Quindi faccio i complimenti In virtù dei complimenti Dico che il pareggio nostro È importantissimo Brighenti Tra l'altro Cosmi ha detto che Sarebbe sceso in Serie B Solo per una piazza come Pescara Quindi Pescara è una piazza Importante Cosmi Poteva essere anche A Palermo Una piazza importante E non vorrei Che trascurasse certe piazze Come per esempio In Modena Che è stato in Serie A Per tanti anni Nella sua vita Calcistica E poi c'era il Brescia Ecco il Brescia Rischia moltissimo Bergoglia Rischia l'esonno Non parliamo poi del Padova Una Padova veramente penultima Alla classifica Voglio tanto bene Al momento retrocedono Brighenti La Regina Il Padova La Juve Stabia Due squadre Blasonatissime Come Regina E Padova Poi parliamo della Regina Che vantaggio 2-0 A 45 Perde 4-3 Con il Varese Incredibile Incredibile Vedendo i gol Il risultato Ormai Chiuso La partita Su 2-0 Su 2-0 Su 2-0 Anche 3-0 Va arrivare Gli ultimi minuti Va arrivare 4-3 3-2 Insomma Incredibile È un modo di buttare via Le partite Queste sconfitte Brighenti Costano magari anche La retrocessione Ascoltiamo Attraverso Attraverso L'equilibrio Quello Non ci deve mai mancare Questa è una partita Che non si chiudeva mai Ingenuità In finale Anche dopo aver Recuperato Il 3-3 Minimino In meno Su punizione Nostra Siamo stati capaci Anche di sguarnirci Disattenti tutti E l'avversario È riuscito A colpirci Completiamo Ragionamento Brighenti Sono sconfitte Queste che rischiano Veramente Di pesare Moltissimo Per la zona A retrocessione Nella Serie B Può succedere di tutto Anche una ripresa Di una delle due squadre Perché La regina Secondo me Potrebbe benissimo Riprendersi E la regina A un punto di distanza Dal Cittadella Che al momento Sarebbe salvo Poi abbiamo Il Novara 28 Il Bari a 29 Bari che Situazione societaria Molto difficile È il problema Uno dei problemi Della Serie B Anche le società Che non sono sicurissime Del loro andamento E questo non è Una bella cosa Del Modena invece Vittoria sofferta Ma importante Contro Crotone Sofferta ma importante Perché è una bellissima squadra Da vedere Giocare Questo Crotone Che Noi abbiamo avuto Un pizzico di fortuna Però Eravamo stati sfortunati A Trapani E questo Soprattutto viene Anche rivisto Poi sul campo Le parole di Novellino Che commentano La vittoria De Giollo Blu Del Modena Contro il Crotone Ascoltiamo Novellino Io cosa ho chiesto ai ragazzi Attenzione Non ne andiamo a prendere Aspettiamolo Facciamo muovere Da una parte Sia del Prete Sia Mazzotta Che si alzano E tacchiamo la profondità Con Babacar E Granosce L'hanno fatto Devo dire Poi l'ho ricorretta Perché Questo Desi Mi andava a fare Una subibilità numerica Esterna Allora sono passato Quei tre mediani Devo dire grazie A Granosce Che si è sacrificato Tra l'altro Per me è stato Uno dei migliori Insieme a Babacar Anche se è stato sostituito Non era contento Ma Questa è Una rabbiatura positiva Vuol dire Che lui ci tiene Io gli ho chiesto Anche scusa Però l'allenatore Delle volte Deve fare l'allenatore Deve essere concreto Deve far capire Che in quel momento Avevo bisogno Di un esterno Che mi dava E poi abbiamo creato Anche alcune Azioni ancora più belle Per andare a fare gol Brighetti Volevo dire qualcosa Su Novellino Che ha risollevato bene Devo fare i complimenti Perché C'è stato un brutto Periodo nel Modena Che è durato Tre a quattro partite Però In questo momento Ho visto la squadra Giocare magnificamente Anche se C'è stato Diciamo così Una sconfitta A Trapani Che è stato però Una sconfitta In Genua Quindi insomma Una sconfitta però Di Trapani In Genua Errori dicevamo Ci è rifatto Col Crotone Che era molto difficile Una gara difficile Brighetti La Serie A Deve poi Prendere spunto Dalla B Perché la B È un campionato ordinato Lei è una proposta L'anticipiamo E poi la sviluppiamo Settimana prossima Io farei compilare I calendari Della Serie A In modo Che si potessero Incontrare Le squadre Che non hanno Impegni internazionali Nel momento In cui Ci sono questi impegni E quando ci sono Gli impegni internazionali Si incontrano Le squadre Che hanno Gli impegni Per formare E per dare Un po' più di sostanza Non solo Ma perché ci rimettono Molto per esempio I canonieri Non esistono più Si rompono tutte le gambe E vengono su giocatori Che manco se ne aspettavano Di andare Sui classifici canonieri Quando c'è Per esempio Il Gomez Della Fiorentina Sempre Il Rossi Della Fiorentina Tanti altri giocatori Che con queste partite Anche fuori tempo Coincidenti Con altre squadre Che sono in piena Forma fisica Senza problemi Di stanchezza Non è giusto Questo è un appello Che facciamo Al mondo della Serie A E la B comunque Noi continueremo Ad analizzarla Naturalmente La prossima settimana Magari con l'ausilio Di contributi Da parte dei vari campi Io ringrazio Come sempre Sergio Brighenti Speriamo Che la federazione Internazionale Parla soprattutto Della UEFA Capisca questa situazione Che per l'estero Non esiste Ma per noi esiste In Italia è molto importante Facciamo un appello alla UEFA Grazie Brighenti Grazie a voi Buona serata a tutti Arrivederci Il programma è stato presentato da CPL Concordia CPL Concordia è sempre accanto a te CPL Concordia Energia Che migliora la vita